Un importante consiglio metropolitano che ha deciso il ritorno della direzione didattica al Gemelli Careri. Giustizia è stata fatta, Sindaco? A me non piace molto dire giustizia è stata fatta, però da taureanovesi dico un ritorno naturale nella sede dove era il Gemelli Careri. Gemelli Careri è anche questo un pezzo di storia di Taurianova, un pezzo di storia che è venuto a mancare nel 2015 in quel consiglio provinciale dove è il presidente Raffa ed era stata un po' Taurianova tolta la dirigenza per riconoscerla allora a Oppido. Oggi noi abbiamo dimostrato con una delibera, come ho detto prima, questa amministrazione che ha lavorato benissimo su questo settore mettendo in crisi diverse comune proprio perché abbiamo lavorato in modo attento, forse siamo stati una delle pochissime amministrazioni ad avere questa lungimiranza di presentazione delle nostre proposte che non sono state tra l'altro smentite poi sia dalla parte tecnica, dall'istruttore e poi dal consiglio metropolitano. Quindi siamo veramente felici per questo risultato storico per Taurianova, speriamo ora che ci saranno altri passaggi che devono essere fatti come la presa d'atto della regione, del MIUR e che, ripeto, quello che noi abbiamo dimostrato, la sede, la storicità della scuola venga confermato e quindi finalmente il primo settembre del 2018 tornerà questa scuola, o meglio la dirigenza perché nulla è stato tolto, non verranno chiuse nessuna scuola, ritornerà nella sede, possiamo dirlo, quasi naturale.